GSTARS VIKTORY VERSUS PLUS GSTARS VIKTORY VERSUS PLUS In maniera libera e ci scanneremo di botte In battaglia online ci affronteremo con gli altri utenti Personalizzazione J non è altro che un mazzo di carte Dove noi inseriremo appunto delle card che troveremo nel negozio J Ecco il negozio punti J In questo negozio fratelli possiamo acquistare di tutto e di più Dai personaggi principali ovviamente molti li ho già acquistati Ai personaggi di supporto che purtroppo non ho acquistato Perché sinceramente me ne sbatte un po' Ai potenziamenti per la nostra nave in avventura J E le card per la personalizzazione J Allora moneta di bronzo Acquistiamo questa perché non ho monete Non ho abbastanza soldi per quella d'argento Dandola acquistiamo Ok perfetto Dopodiché si torna ai personaggi principali e finisce così Carte JSTARS Oh in questi bauli noi possiamo inserire il nostro gettone E ci verrà fornita una card per il nostro mazzo Purtroppo ripeto non ho la moneta argento E quindi non possiamo prenderla Possiamo prenderla soltanto bronzo Inseriamo il gettone Ed ecco la carta ottenuta Shishio Makoto Una volta ottenuta questa carta Andiamo in personalizzazione J Questo è il nostro mazzo Io per ora ho trovato quelle card lì fratelli Andiamo in uno spazio vuoto Premiamo triangolo per l'elenco Ed ecco la nostra nuova carta Questo qui mi dà più un attacco come bonus E di malus meno due di difesa E' una carta che sinceramente farei volentieri a meno di averla nel mio mazzo Quindi possiamo uscire Queste sono quelle che ho Goku mi dà più un attacco meno due di salute Infatti probabilmente lo rimuoverò da questo mazzo E poi le altre Ovvio che se sceglieremo il mazzo oro Cioè il pacchetto oro Avremo molta più possibilità di trovare card molto molto rare Vi ho spiegato fratelli tutto ciò che c'è da sapere su JSTARS Vittory Ora ci facciamo una battaglia libera Ma per il prossimo video decidete voi che modalità volete vedere Avventura J verso la vittoria o arcade Mi raccomando scrivetelo nei commenti Per ora battaglia libera Un giocatore Scegliamoci i personaggi Allora ne abbiamo veramente tanti Io mi prenderei Eh la scelta è tosta Ichigo Sì voglio Ichigo Ichigo fratelli Ve lo preannuncio subito E' scarso ma veramente scarso In difesa fa veramente cagare Mettiamo audacia Sì miglioriamo la difesa Allora come amico invece Come amico mi voglio lui Sì Koro sensei E come personaggio di supporto Mi piglio Freezer Annientamento Onda letale Raggio letale Annientamento E i nemici fratelli li scegliamo in maniera casuale Con tre stelle Ok perfetto Cazzo è con la scimmietta là Vabbè No non voglio giocare qui Ma voglio giocare in Villaggio pinguino Sì che a me non è un mob più ravvicinato E ci si mena di più Eccoci qua Ecco la presentazione Pre partita Ichigo Kurosaki Darò fondo Lui è Koro Sensei E lui E lui Il grande Freezer E questo è il team avversario Kenshin Kimura Questo è veramente molto bello Assomiglia a uno youtuber Che conosco Oh vabbè E lui Fratelli Questo personaggio qui Heei È veramente Incredibile Eccoci pronti Allora Prima di iniziare Ci carichiamo fratelli Perché ho bisogno Di attivare una modalità Gli amanti di Bleach L'avranno già capita Andiamo dallo smutandato Bam Uuu Ora ti faccio male Ora ti faccio veramente male Smutandone Vedete fratelli Adesso è in moon Ma chi è che mi sta a picchiaccoci Oh Ma io voglio mirare lo smutandato Io fratelli Un personaggio più scarso di Chigo Non l'ho mai provato In J-Stars Victory Ve lo giuro No 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 Attenzione la furia È quasi attiva Vai Vai Chigo Uh La furia Vai Attiva la furia Coglione Attivala Oh Allora Fratelli La mossa finale di Chigo Gatsuka Attenzione Shotta con un colpo Uh L'ha fatta lui Mi è un po' che combina L'ha preso L'ha preso Che figata Perché io gli ho regalato Perché io gli ho regalato Un'uccisione così Alla cazzo proprio Ancora lo smutandato Attenzione Lo smutandato È inarrestabile Lo smutandato Gatsuka Eh smutandato mio Adesso però Una bella finna E non la fai Via Mamma mia ragazzi L'agilità di Chigo È pazzesca Ma come personaggio È veramente Veramente Scarso Battaglia terminata Ecco perché Devo affrontare Freezer dietro Sta così Ma vedi Io ne ho fatto un cazzo Ho vinto Bella per voi Ciao Per oggi è tutto Fratelli Mi raccomando Nei commenti Fatemi sapere Che modalità Volete vedere Nel prossimo video Ciao